Una gioia immersa, io amo questa città, io amo questa città, mi voglio bene. No, questo non è serie B, questo non è serie D, questo è serie A, questo è serie A, ve lo dico, è serie A. Nicola Smitra, il vero gruppo, anche chi ha giocato di meno, festeggia che il rimonte è stata oggi 3 su 3 la dimostrazione che siete davvero più forti sul capo. Abbiamo sofferto, abbiamo sofferto, ma questo è calcio e sono contento, amo questa città, questo pubblico è emenza, non ho parole per descrivere questa cosa, perché questo è serie A, questo è serie A.